e ben trovati da Gianluca Virgilito e dalla redazione di Antenna Uno Notizia a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Sono oltre centosedici milioni di euro destinati alla Sicilia nell'ambito del PNRR per otto progetti su ventitré ammissibili di rigenerazione urbana di edilizia residenziale pubblica presentate dalla regione o da comuni e città metropolitane siciliane iniziati con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza da residui duemiladiciannove duemilaventi per attuare il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. La regione finanzia con oltre 1,6 milioni di euro iniziative pilota di co-housing e co-produzione per progetti di agricoltura sociale innovativa. L'avviso prevede il finanziamento di cinque iniziative finalizzate all'avvio di nuove imprenditorialità in agricoltura per sostenere l'inserimento lavorativo di cittadini stranieri presenti nel territorio vittime o potenziali vittime di sfruttamento in ambito agricolo. Spostiamo a Marsala nel Trapanese, rissa in centro, morto un giovane con una coltellata. Il servizio. Un ventottenne con precedenti di polizia Luigi Loria è stato ucciso con una coltellata nel corso di una rissa scoppiata ieri sera vicino una pizzeria di Marsala, Trapani. Il ragazzo è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino. La discussione sarebbe scaturita con altri giovani di nazionalità romena. Sono stati fermati dalla polizia cinque soggetti. Si tratterebbe di due italiani che avrebbero partecipato alla violente elite e tre romeni. Due accusati di concorso in omicidio e uno indagato per aver sferrato la coltellata. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie per Bella Radio. Continua il maltempo in Sicilia, nello specifico a Palermo, si sono registrati nella notte veri e propri acquazzoni che hanno generato disagi pure questa mattina. Le strade sono allagate, la circolazione veicolare è compromessa. Un volo Ryanair da Pisa con centottanta passeggeri diretti allo scalopera ermitano è stato dirottato su Catania. Sequestrati i beni per un valore di circa cinquecentomila euro al trentasettenne Francesco Di Marco, condannato in primo e secondo grado a sei anni e sei mesi di reclusione poiché è ritenuto responsabile responsabile di aver far parte della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Raccolta porta a porta a San Giovanni Galermo. Maria Grazia Spartada. L'emergenza rifiuti vissuta a Catania nelle ultime settimane fa capire come sia quanto mai necessario un cambiamento di rotta nella raccolta della spazzatura in città. Grazie all'attività del presidente di Cibali, Trappeto, Nord San Giovanni Galermo, Erio Buceti e del resto del consiglio del quarto municipio in piena sinergia con la direzione ecologica del comune di Catania dal prossimo primo novembre partirà a San Giovanni Galermo la raccolta porta a porta in tutto il quartiere. Per tutti noi questo rappresenta una svolta importante afferma Buceti soprattutto se consideriamo che questo territorio ha sempre dovuto far fronte alla piega legata al proliferare delle discariche abusive. Spazzatura su spazzatura che con l'emergenza di queste ultime settimane veniva poi data alle fiamme con grosso rischio per la salute pubblica. La raccolta porta a porta prosegue Buceti e il risultato di un piano che prevede il pieno coinvolgimento dei residenti della zona finalizzato ad avere un territorio più vivibile e pulito. A questo proposito desidero ringraziare il sindaco Salvo Pogliese, la direzione all'ecologia, l'assessore Cantarella, la Dasti e il geometra Fiscella per quanto tempestivamente fatto su volontà del sottoscritto e del consiglio del quarto municipio. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie per Bella Radio. Il progetto per la realizzazione del parcheggio scambiatore del parco a verde della viabilità circostante piazzale Raffaello Sanzi di Catania è stato pubblicato sul sito dell'Orega con una base d'asta di 5 milioni centosessanta quattro mila settecentosettantacinque virgola quaranta euro più IVA. Ci saranno trecento quindici stalli per auto e dodici per bus con annessi aria verde con parco giochi e nuovo piano viario della zona. La guardia di finanza ha sequestrato beni per quattro milioni di euro all'ex patron del calcio Catania Antonino Pulvirenti nell'ambito di investigazioni su presunti omessi versamenti fiscali nel duemiladiciassette e nel duemiladiciotto da parte della Meridi. Disponibilità finanziarie, quote societarie, dodici immobili nelle province di Catania e Messina sono stati sottratti all'uomo dei finanzieri. Approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. Le nuove misure entreranno in vigore l'undici ottobre duemilaventuno. Per approfondire potete consultare il sito www.antennaunonotizie.it E con questa news termina questa edizione del nostro radio telegiornale da Gianluca Virgilito. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornale. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 Un vero ritrovato a tutti gli amici sportivi di Vela Radio TV da Santo Spartà. Lavoro senza sosta per le squadre siciliane in vista della settima giornata del girone C di Serie C. Il Catania ospita al Massimino la Juve Stabia domenica alle ore 17.30. Le Vespe di Walter Novellino sono una delle squadre più rognose del campionato, con sole tre reti incassate per il titolo momentaneo di miglior difesa del torneo insieme alla capolista Bari. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione dove l'incontro terminò al nobile di Lentini 1-0 per il Catania grazie alla rete di Dennis Tonucci. L'ultimo precedente giocato nel capoluogo eteneo è della stagione 2019-2020, terminato sempre 1-0 per i padroni di casa grazie a rigore di Cicciolodi. In panchina nel Catania sedeva proprio l'attuale allenatore della Juve Stabia. Il Palermo di Giacomo Filippi affronta domenica alle ore 17.30 al Barbera il foggia di Zenec Zeman, match che prevede spettacolo poiché entrambe le squadre competono per le zone nobili della classifica ed entrambe segnate dal destino comune della loro storia recente, ovvero entrambe partite dei dilettanti nel 2019. Il Palermo vuole vincere per dare uno slancio alla sua stagione, per adesso al di sotto delle aspettative iniziali. La CR Messina di Salvatore Sullo affronta domenica alle ore 17.00 al Franco Scoglio il Monterosi. Peloritani obbligati a vincere poiché la classifica inizia a farsi preoccupante, visti i soli 5 punti ottenuti in 7 giornate. Ottimo periodo di forma per i laziali, soprattutto dopo aver superato per 2-1 il quotatissimo Avellino. Dal calcio alla Canoa Polo, con le prime giornate dei campionati europei disputati al molo di Levante del Porto di Catania. Gol, spettacolo ed emozioni hanno riservato i primi istanti del torneo che si preannuncia spettacolare. L'Italia parte forte superando per 4-0 il Portogallo, assegno Novara, Bellini, Emanuele ed ancora Bellini. Però poi gli azzurri devono cedere il passo alla Francia che vince 5-0. Stamattina alle 9.10 la squadra del direttore tecnico Rodolfo Vastola affronta la Lituania. Nel senior femminile le azzurre invece cedono per 2-1 contro la Francia. La sblocca Anastasi, pareggia Claire e poi segna Luis Celeste. Dopo l'emergenza maltempo si rimonta in sella al centro equestre del Mediterraneo di Ambelia, a Militello Val di Catania, per una tre giorni di puro agonismo. Dall'8 al 10 ottobre andrà in scena la Coppa degli Assi. Evento FEI riconosciuto a livello internazionale e organizzato dall'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e promosso dalle regioni siciliane con il supporto tecnico di Fiera Cavalli. Dopo la trentaseiesima edizione del concorso torna a validità internazionale con le competizioni CSI 1 e CSI 2 dove i campionati del salto ostacoli si sfideranno per un monte premi complessivo di 90.000 euro. E per ora è tutto con lo sport. Per saperne di più visita tutti i nostri canali. Un buon proseguimento su Bella Radio TV. Una buona giornata agli amici ascoltatori di Bella Radio da Fabio D'Alio di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì complessivamente instabile sulla Sicilia e in particolare sul comparto tierrenico con frequente occasione per pioggia, acquazzoni e anche a sfondo temporalesco. Specie lungo le coste settentrionali ma anche sui Monti Nebrodi, sui Pelloritani, fin verso il Nisseno. Il tempo sarà migliore sul comparto meridionale con una maggiore variabilità sul Siracusano e il Ragusano dove anche le temperature saranno più elevate con punte anche di 25 e 26 gradi. Clima ventoso per correnti di Maestrale, sempre piuttosto forti, con mareggiate lungo le coste esposte, mari che saranno in generale agitati, anche molto agitati, specie il terreno e il canale di Sicilia. Ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.